Il Paris Saint-Germain quest'estate cercava Di Maria, ma in realtà Di Maria c'è già il Paris Saint-Germain, no? No, Di Maria è sinistra. Era bello, si arrivava perché è un giocatore fortissimo, a me piace tantissimo, ma buono. Oggi ci troviamo quelli che siamo e stiamo facendo bene e speriamo di continuare così. Tre gol di Bayern Munich, ma c'è stato anche il gol di Cavani. Ti abbiamo visto che sei andato a parlare a lungo con lui dopo i gol. No, sempre le dico io che la posizione che gioca non è quella sua, è la verità. Ma sempre le dico, la possibilità, hai uno o due per partita, la devi mettere dentro e niente, oggi l'ha messo inizio. È sempre bello vincere, oggi abbiamo un transito risultante, quindi siamo contenti di questo. Adesso possiamo andare un po' più tranquilli, sereni, al quale nazionale. Monte ha chiamato Marco Berlati e non ha chiamato Tiago Motte, ti è un po' sorprezzo? Un po' sì, perché vedo quello che fa Tiago tutti i giorni, gioco con lui tutte le partite e mi dispiace per lui. So che ci tiene la nazionale, penso che sia uno dei migliori centrocampisti italiani in questo momento. È normale che mi dispiace a livello personale, poi ci sono le scelte del mister che sono indiscutibili, però quando mettiamo il giocatore di fatto e dimostrerà ancora il suo valore, si metterà sempre a disposizione della nazionale.